Il dato certo è che nelle casse della Fondazione Petruzzelli di Bari ci sono 1.600.000 euro in meno, soldi che avrebbero dovuto versare province comune, che hanno deliberato invece a 2013 ormai concluso la somma di appena 200.000 euro a testa sul milione in preventivo, spiccioli se si pensa, nel caso del Comune ad esempio, agli oltre 2 milioni versati per il 2012. Se non è a rischio la stagione in corso, sembra certo l'arrivo dei fondi FUS di circa 7 milioni di euro, il problema è strutturale e forse anche politico. Massima incertezza sulle entrate, mancanza di stabilità per la prossima programmazione, a ciò si aggiunge la volontà della Camera di Commercio, anche se non ufficializzata, di volersi sfilare dai soci fondatori. Una boccata di ossigeno potrebbe arrivare dal Fondo Valore Cultura, a disposizione 100 milioni di euro per le 14 fondazioni italiane, 25 per il 2013, 75 per quest'anno. Il commissario straordinario Pinelli deciderà, si spera per metà gennaio, secondo quanto assicurato anche alla Fondazione Petruzzelli, nell'incontro di alcuni giorni fa, i criteri di assegnazione. Restano poi da capire le intenzioni del futuro Consiglio di Amministrazione, per evitare un commissariamento bis, che però non può ancora riunirsi sotto la presidenza del Sindaco, perché manca all'appello il rappresentante della Regione, che sulla nomina continua a prender tempo. Intanto si registra la protesta del sindacato Will, che paventa il rischio di una nuova fase di incertezza per colpa di giochi politici, e punta l'indice contro la decisione del Comune di tagliare il contributo, un danno per il quale, afferma la Fondazione, farebbe bene ad avviare un'azione risarcitoria.